Tutti o quasi almeno una volta nella vita siamo rimasti senza parole davanti ad un trucco ben riuscito. Ora la magia, è il caso di dirlo, si compirà su Canale 5 in quattro puntate ricche di ospiti d'eccezione e moltissime sorprese. Stiamo parlando di Masters of Magic, il campionato mondiale di magia che si è svolto la scorsa estate e che era stato momentaneamente accantonato. Finalmente lo potremo vedere in tv subito dopo la fine del programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Masters of Magic che sarà condotto da Gerry Scotti prenderà il via probabilmente venerdì 13 maggio e vedrà maghi professionisti di grande bravura sfidarsi per ottenere il titolo di miglior mago del mondo. I concorrenti saranno ben 150 provenienti da 66 paesi diversi e si cimenteranno in prove che comprenderanno tutti i vari rami dell'illusionismo e cioè magia comica, mentalismo, manipolazione, magia tecnologica e molto molto altro. La giuria sarà composta da tecnici specializzati e ad ogni puntata dei padrini d'eccezione accompagneranno i concorrenti. I padrini saranno vere e proprie star internazionali come ad esempio Franz Harri che ha collaborato a lungo con Michael Jackson sui palchi di tutto il mondo. Insieme al conduttore Gerry Scotti ci saranno Raul Cremona e il mago Forrest e presidente onorario sarà lui, il mago italiano più famoso, Sylvan. Insieme a loro anche Walter Rolfo, il mago torinese che ha ideato e prodotto lo show e che è entrato per ben due volte nel Guinness dei Primati. Nel 2008 per aver estratto ben 300 conigli da un cilindro e nel 2011 insieme ad un altro mago per aver rotto con la forza del pensiero ben 66 bicchieri. Una buona notizia per gli appassionati. Anche Masters of Magic entrerà nel Guinness dei Primati come spettacolo di magia più lungo di tutti i tempi. Grazie a tutti.